Nuovo avvicendamento alla guida dell'ospedale Luigi Curto di Polla si prospetta all'orizzonte. Il Vallo di Diano è in attesa di nuovi nomi che guideranno la sanità comprensoriale non solo per quanto riguarda il nuovo direttore sanitario del presidio ospedaliero, ma anche per il nome del nuovo direttore del distretto sanitario. Pochi giorni ancora l'attuale direttore sanitario del Curto, il dottor Luigi Mandia, lascerà il suo posto a Polla dove è arrivato nell'estate del 2015 per nuovi incarichi che lo porteranno in Basilicata e precisamente nel rinomato centro oncologico di Rio Nero in Vulture di cui sarà il nuovo direttore. Mandia lascia quindi la direzione sanitaria dell'ospedale pollese a distanza esattamente di sei anni dal suo arrivo e dove ha affrontato diverse battaglie per salvaguardare la presenza del presidio ospedaliero sul territorio e dei diversi servizi che erano costantemente a rischio e chiusura. Anni e battaglie ricordate anche dal consigliere regionale Corrado Matera nel suo saluto al direttore Mandia. Voglio esprimere un ringraziamento sentito al dottor Luigi Mandia, scrive Matera, per il lavoro svolto come direttore sanitario dell'ospedale di Polla. Non posso non ricordare le tante battaglie condivise a difesa del nostro ospedale, ma soprattutto l'impegno profuso nei giorni drammatici che hanno segnato la prima fase dell'emergenza Covid nel Vallo di Diano. Sono sicuro che riuscirà a dimostrare la sua profonda competenza e grande professionalità anche alla guida dell'ospedale di Rio Nero. Tanti auguri per il nuovo incarico, conclude, e un grazie affettuoso per l'attività resa al nostro territorio. Si resta ora in attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Polla. Novità in arrivo anche alla guida del distretto sanitario Salaconsina Polla. Potrebbe infatti a breve lasciare l'attuale incarico anche il dottor Claudio Mondelli, che spera in un avvicinamento verso la sua terra d'origine, mentre nell'asla di Salerno si stanno registrando una serie di cambiamenti alla guida delle diverse direzioni sanitarie. Non vi è ancora l'ufficialità della partenza anche del dottor Mondelli, arrivato a Salaconsina a fine 2017 e anche lui alle prese durante il suo incarico nel Vallo di Diano con le difficoltà dovute alla gestione dell'emergenza Covid e ora con le attività di vaccinazione.